Aveva chiesto di intervenire con urgenza per sistemare questo tratto di schiaggio a metà origlia dove la ditta è incaricata. Aveva rimosso le scogliere nel mese di aprile senza provvedere a quelle nuove. Michele Tanzi aveva lanciato ieri su Fano TV un appello all'amministrazione comunale preoccupandosi anche per gli stabilimenti balneari per il rischio di future mareggiate. I gestori però da quanto emerso questa mattina sono tutti in sintonia con il cronoprogramma dei lavori ricordato oggi durante una riunione convocata dal vice sindaco Cristian Fanesi. Erano presenti anche i tecnici del provveditorato e del comune che hanno illustrato l'intervento complessivo che Fanesi vorrebbe terminare nel più breve tempo possibile. Dunque abbiamo concordato con gli operatori, abbiamo spiegato lo stato di avanzamento, abbiamo detto che se tutto va bene, se le condizioni meteomarine ci saranno buone, se ci potrà essere qualche deroga per poter lavorare anche nei giorni non festivi durante il mese di giugno, luglio o così, se tutto va bene a settembre-ottobre questi lavori finiranno. Sono lavori ovviamente molto importanti, 4 milioni, 6 setti, un chilometro e mezzo, un chilometro e duecento metri circa di spiaggia difesa e quindi noi siamo veramente contenti che questo lavoro proceda. La regione Marchia, poi aggiunto l'assessore, ci ha comunicato che grazie al PNRR ha richiesto la possibilità di continuare l'intervento fino all'altezza dell'hotel Playa a Torrette. L'obiettivo infatti è quello di dare continuità al progetto con l'auspicio che si possa avviare già il prossimo anno, il secondo stralcio dei lavori a difesa della costa di Fano Sud. L'amministrazione comunale insieme alla regione RFI che cofinanza questo progetto ha intenzione e continuerà ad investire a Metauriglia, quindi vorrei tranquillizzare anche rispetto alle polemiche che ci sono state, sicuramente guidate dalla buona fede, però vorrei dire che anche noi siamo guidati dalla buona fede e gli strumenti tecnici, i progettisti, sia del Proveditorato Opere Pubbliche, sia del Comune di Fano, sia dell'impresa ci hanno detto che i lavori proseguono bene e se il mare rimane così non ci saranno nessun tipo di problemi e a ottobre finiremo il lavoro. A riferire dell'entusiasmo e del pensiero unanime degli operatori balneari è il collega e il presidente di Oasi, confartigianato Mauro Mandolini. Siamo pienamente soddisfatti perché i lavori stanno andando bene, il cronoprogramma è bello serrato e veloce e quindi ci aspettiamo che i lavori finiscono il primo possibile, siamo completamente in linea con l'operato dell'amministrazione e tutta la parte tecnica, quello che gli diciamo avanti veloci perché non vediamo l'ora che questo intervento finisca per riqualificare diciamo al meglio tutto il territorio e la zona. Da quanto tempo aspettavate le scogliere? Ma guarda queste scogliere qui penso che siano ormai 30 anni anche più che stanno aspettando diciamo di essere spostate più a largo. Questo intervento servirà principalmente a riqualificare tutta quest'area che fino ad oggi è stata un'area depressa e con questo intervento qui dovrebbe ritornare a diventare un'area, una nuova area fruibile anche a tutta la parte turistica per cui è un intervento importantissimo per tutta la località ma io dico anche per tutto il comparto del turismo.